La cifratrice tedesca Lorenz, macchina utilizzata dai nazisti nella seconda guerra mondiale per criptografare le comunicazioni tra le gerarchie militari più elevate. La criptografia, e o criptografia, dal greco o cryptos, nascosto, e il grafia, scrittura, è la branca della criptologia che tratta delle scritture nascoste, ovvero dei metodi per rendere un messaggio non comprensibile e intelligibile a persone non autorizzate a leggerlo, garantendo così, in chiave moderna, il requisito di confidenzialità o riservatezza tipico della sicurezza informatica, 1, un tale messaggio si chiama comunemente criptogramma e i metodi usati sono detti tecniche di cifratura.